si dice vabbè benossi ragazzi se partiamo con lo schermo nero in realtà è entrato in minecraft tra virgolette però a quanto pare non mi carica e comunque sia questo qui ecco vedi questo qui non era un video ricordante minecraft cioè giocherò a minecraft sì ma perché volevo parlare dei video perché adesso li sto facendo alla cazzo cioè non video il gioco che io voglio fare in quel momento lo faccio però sto pensando che sarebbe più giusto mettere che sto il lunedì faccio minecraft il mercoledì faccio off class io ho tre giochi da dividere in quattro giorni il lunedì il martedì il mercoledì il giovedì perché il venerdì il sabato e la domenica non so se riesco io sto pensando il lunedì mettere il testo possiamo mettere stick un due adesso noi faremo delle poi il martedì potremmo fare minecraft il martedì il mercoledì allora il mercoledì e il giovedì clash of clans il mercoledì fare quella serie dove ehm praticamente dove c'è la seconda isola dove c'è tutte le truppe quelle che si potenziano quella invece il giovedì e poi vabbè se ho tempo che so il venerdì sera o giorni del genere farò dei video però cioè non so che giochi farò ho capito questo è il fatto giustamente farò dei video sì però non so ah beh qui dovrebbero dirti pure con il tuo allora accelgente game no poi c'è la red c'è l'arancione c'è il rosso d'arancione e il vuoto giusto esatto c'è il verde purple spero di essere il red perché è quello che mi interessa essenzialmente aspetta vuoi vedere una cosa sai che aspetta probabilmente sono di red probabilmente perché non ho scritto con red probabilmente sono di red non riesco a vedere il mio game e sono red perfetto ok qui c'è il ferro e lì c'è il fai sui clay farmi un po' di ferro vabbè comunque siamo qui c'è non è un video di minecraft quindi c'è volevo soltanto informarvi di sta cosa intanto c'è sto già in sto video qui non lo vedo nessuno perché è uno dei più pallosi però se riusciamo magari a vincere non ho mai vinto una no sì forse una due li ho già vinte dipende però voi non sapete con che tattica c'è ero un attimo uscito poi mi hanno fatto tutto l'oro e abbiamo vinto così perché ovviamente perdo non ero un attimo andato cioè perché mi stava laggando quindi ero uscito cioè in realtà ero cioè mi si era bloccato il gioco e ho fatto tutto tutto l'oro l'hanno fatto oh mi si è buggato il villico cioè come faccio a fare l'oro di scambio ah perfetto io direi di guardare un attimino il letto con la sandstone con la handstone poi ci prendiamo un picconcino di no plastici perché essenzialmente non mi interessa cioè il momento ora voglio come armi non posso fare nulla inizio a portare il letto con la handstone nel materiale proprio proprio perfetto però qua ci dovrebbe essere un blocco però qua non c'è a sparire è tutto pulento nooo boh vabbè ok potete vedere il gioco lagga più che mai io sono felice così fammi si apre i velli cosa devo fare se non riesco a fare i trailer cosa devo fare ok visto bisogna solo incazzarsi chiedo 17 non posso farmi lo stesso sapete cosa mi posso fare come arma esatto non c'erò eh fa perché se non lo bardo io chi bardo il letto eh questa è la guarda tu io bardo il letto io sto mi son guardato io ah sei molto gentile io becco già con la spa di diamante infatti è una matura bellina vero? si e poi ci dovrebbe essere non ce l'ho buttato giugno vero? yeeeh sono ancora vivo sono immortale merdee ragazzi ho buggato il gioco e noi l'abbiamo perso e sono morto l'ho cacciato dal server per fly ma non ci credo ragazzi per questo video è tutto io vi ringrazio per la visione mamma mia non ho cacciato dal server per fly non ci credo questo lo dico ai miei amici e vabbè mi si piace però cioè ho fatto mi rimanere non so cosa sia successe bene non doveva essere un video di Microsoft non è lo stesso io direi che perché questo video è tutto da Axel è tutto per l'appunto grazie grazie